Palazzi di polvere, cos'è questa? C'è il bassotto, sono nel posto giusto, no dubbi, qua si è tanta roba, tanta roba! Protocollo? Oggi bisogna seguire il protocollo alla lettera, Alba in corso ragazzi, guarda che colori, figata ragazzi, mamma mia, che bello, bello fresco oggi, è così che deve essere, ma saranno quanto? Meno 14? Sto salendo solo questa maglietta qua, finché non c'è vento, ci va bene? Che figata ragazzi, chissà che ci tocca battere braccia, per farne poi, chi l'avrà mai detto? Mi aspettavo un po' di gente, invece non c'è nessuno, che strano! Oh, ritorno ai prepotenti dei tonnelli, eh? Eh, oggi bisogna andare tutto! Oggi ritorno in polvere! Tutto tutto! Guarda qua che immacolatezza, tutta immacolata ancora, cos'è questa? That's powder man! Powder man? E questa è proprio qualità, guarda qua, appena caduta, fredda, fredda! Immacolata! Immacolata poi! È freschetto, eh? Cazzo, sono mezzo invernato, eh? Siamo quasi su! Sento la mascella recentemente congelata, non so se si nota da come parlo! Eh, un po', io ho messo anche il piumino, eh? Guanti grossi e piumino in salita, robe rare, per me! Però, buono, buono! Sono dietro di anni al Giappone, eh? Per ricordarci del basot che sale con quel piumino! Eccoci in cima, bello fresco! Com'è ragazzi, fresco? Quasi da rimpiangere, eh? Questi momenti torso nudo! No! I wanna run to the end of the world Just to see if it's possible I don't care what I've been told I wanna run to the end of the world I'm gonna run, 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 by problems, run till the road hits the sea, you better run, 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 if you want to be free. Eh, tanta roba qua, eh? Mamma mia! Prendato qua! Eh, qua si, eh? Fa tanta roba, eh? TANTA roba! Oh, no! Omogeni, eh? Omogeni, di qualità, eh? Non tarocchi cinesi! No, no, qua quelli dietro dovevano andare a fare un'altra linea, sennò si schiantavano contro qualcosa, eh? Se c'è il bassotto, eh? Sono nel posto giusto! Eh, dai, dai! Non ci lamentiamo! Non ho dubbi! Ehi, grande Marco! Oggi si scia allora, eh? Oggi si scia, oggi bisogna dar tutto! Finalmente, povere! È già il secondo giro? Secondo giro, adesso si riparte, si riparte! Protocollo! Oggi bisogna dar tutto, eh? Protocollo! Oggi bisogna seguire il protocollo alla letta! Alla lettera fino in fondo! Il protocollo! Torna su, ragazzi! Secondo giro! Andiamo a fare ancora un po' di fumogeni! Freschetto, eh? Adesso bisogna scaldarsi in salita! E poi di nuovo a tritare! Vai! Guarda che fosse un po' più caldo il secondo giro, eh? Invece, appena ti alzi un po', di nuovo... Freschetto, eh? Seconda volta in cima, ragazzi! Tanta roba! Vuoi dicono che il freddo non resiste più, eh? Oggi lo slogan è resistere, eh? Sono fico! Resistere... E farsi... Motivare dalla polvere! Mi fa piacere! Musica! Grande! L'ora è riempita di polvere e è stato piacevole! si è piaciuto guardate il bernardo ottonnelli palazzi di polvere palazzi fumosi la barba piena fumogeni palazzi fuochi d'artificio oggi in marmolada secondo giro da panico wow spolverate spolverate di questo stiamo parlando questo sono palazzi di polvere alzando palazzi ragazzi oggi il ministro del polvere ha lasciato uno di pcm che prevede lo super powder pass e chi tira il regno in barca prima va in 40 esatto basta darby non è più non è più tollerato darby bisogna tenerlo rispingerlo terzo giro ragazzi freddo continua anzi aumenta ma noi non molliamo dare tutto ragazzi polvere da veramente motivazione uff figata terza risalita guarda che bello il sel da dietro guarda che luce mamma mia adesso si polvere pronti per la discesa ragazzi terzo giro luce da favola polvere in quantità cosa vuoi di più tanta roba favolo signore grazie 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 che Forza Forza Raga che cazzo hai visto che roba che roba no parole ragazzi impressionante quella poi mollare come se non ci fosse un domani come se non ci fosse un domani che sogno ragazzi freddo vento in cima durata non facile ma ripagata a pieno dei palazzi di polvere che luce adesso ragazzi bestiale godetela anche polvere ragazzi bestiale che luce ragazzi mamma mia spettacolo eccoci rientro con le nuvole rose ragazzi tramonto in atto ci ho perso al tingua rientro o protocollo rispettato oggi oggi tanta roba dato tre giri al cardio grazie super super grazie grazie